Carissimi amici, anche quest'oggi riprendiamo i nostri quaderni di storia nei quali tracciamo la vita e l'opera di un personaggio piemontese illustrissimo, genialissimo ed è l'architetto Alessandro Antonelli che nasce a Ghemme in provincia di Novara dove fa i suoi primi studi e poi quelli secondari, va all'università, si laurea in architettura e poi riprende la sua attività, la sua prima attività facendo dei progetti, delle piccole costruzioni. Poi si amplia e ha un'idea luminosa subito contrastata dai suoi cittadini di Novara ma poi in un secondo tempo venne poi approvata. A Novara vicino alla stazione ferroviaria si trovava il Duomo di Novara che non era eccessivamente, diciamo come costruzione, non era certamente una costruzione artistica ma era una costruzione storica che era anche legata effettivamente ai Novaresi. Lui la fece abbattere per costruire sul suo sito quella che venne chiamata la cupola di San Gaudenzio, ossia una costruzione ardita, stretta e alta che vagamente assomiglierà poi alla molla antonelliana di Torino, un po' più bassa ma in miniatura poteva già essere questa. E quando poi i lavori furono terminati allora i cittadini apprezzarono poi questa nuova costruzione che si può vedere anche andando a Milano perché è proprio vicino alla stazione ferroviaria di Novara. Quando ritorna a Torino si inserisce nelle belle arti di Torino dove insegna architettura per oltre 20 anni e ha uno stuolo di allievi, di amici con i quali trattano diversi argomenti soprattutto anche sulla urbanistica di Torino perché questo architetto aveva idee molto grandiose, non è che si riferiva solo alle costruzioni seppur ardite come vedremo più avanti, ma anche gli interessava i siti. Per esempio a Torino c'era una zona che confina tra Corso San Maurizio e Corso Regina Margherita che un tempo era una zona umida, umidissima, con molto fango, tagliata da diversi fossi che portavano un'umidità incredibile e questa zona veniva chiamata zona di fango, una fanghiglia che per traslato veniva poi chiamata come ora vanchiglia. Ebbene l'architetto che cosa fece? Si accostò a una delle donne più ricche di quel periodo che era la contessa Colbert Giulia di Barolo che aveva sposato appunto Falletti di Barolo che è stato il primo a costruire poi il cimiterio generale di Torino e con lei si mise in accordo per modificare, per risanare tutto questo ambiente di vanchiglia e questo si fece ovviamente. Si fecero strade nuove, si deviarono i corsi d'acqua e quando quasi tutto era già fatto egli comperò una striscia di terreno piccolissima, ristrettissima che andava a poggiare sul Corso San Maurizio costeggiava l'attuale via Giulia di Barolo in una forma triangolare e finiva con 70 centimetri pensate, una venne poi chiamata fetta di polenta proprio per questa sua struttura snellissima e nessuno pensava che si potesse fare una casa su quei pochi metri di terreno siccome egli stesso non si osava presentare in comune dove era anche consigliere comunare un terreno così piccolo per se stesso come poteva essere il pollaio delle galline glielo fece comprare dalla moglie una nobile cremonese che si chiamava Scacca Barozzi e su questo terreno egli presentò un progetto che gli venne poi accettato da chi la presentò e fu appunto la moglie si prevedeva una costruzione di tre piani la cosa venne accettata anche se con qualche critica e soprattutto con qualche curiosità ma lui poi disobbedendo a quello che erano i permessi dati dal comune arrivò a quattro piani e poi a cinque piani una cosa veramente incredibile stretta, alta, una torretta triangolare dove lui stesso per alcuni anni vi abitò con la moglie e poi diede anche un piccolo locale a Niccolò Tommaseo suo caro amico che veniva dal Friuli dove aveva avuto dei problemi perché forse si parlava che fosse legato alla carboneria comunque in questo locale egli scrisse il suo famoso dizionario italiano finito questo lavoro iniziò a fare tanti altri lavori e addirittura presentò un progetto per demolire altre case per fare altre costruzioni il che non è poi stato accettato arriviamo attorno agli anni Sessanta quando il re Carlo Alberto concede col suo statuto albertino libertà di culto a coloro che avevano religioni differenziate a Torino vi erano molti ebrei che venivano chiusi soprattutto in via Bogino dove c'erano delle case dove alla sera alle otto e mezza chiudevano questi ebrei non potevano uscire in una situazione vivevano quasi coatta avendo libertà di culto decisero di mettere tutti i soldi assieme e far costruire un edificio che servisse da tempio ossia da sinagoga le loro chiese e si rivolsero appunto ad Antonelli perché sapevano essere un progettista valido estroverso il quale fece un progetto che fu appunto questa cupola fatta un po' a fiasco della molle antonelliana che prevedeva un'altezza con una piccola guglia sopra per un totale di 43 metri iniziarono i lavori e piano piano mentre questi lavori stavano per andare avanti egli modificò l'altezza e la portò a quasi 60 metri di altezza sempre con l'accettazione anche degli ebrei i quali però dovevano sborsare una sombra maggiore di quella che era il loro budget e gli ebrei nei soldi sono molto precisi e quindi sorsero delle difficoltà ma lui e cosa volete probabilmente voleva creare un edificio e passare alla storia per questo edificio e ci riuscì perché poi questa molle antonelliana diventò ed è tuttora uno dei simboli più significativi della città di Torino e quando era quasi riuscito a far accettare i 60 metri ebbene presenta un altro progetto e tenta di portarlo a 80 metri e dopo pochi metri di altezza gli ebrei fessero due conti e dice qui non ci stiamo nei soldi dobbiamo smettere dobbiamo interrompere i lavori e rivendiamo questo terreno che abbiamo comprato con questo edificio che oggi arriva già a oltre 60 metri di altezza ma trovare un acquirente non era facile per un edificio di quel genere con quello stile in quella zona e si rivolsero a Don Bosco Don Bosco stava allora approntando gli oratori dove chiamava diversi giovani insegnava a lavorare insegnava anche a pregare li toglieva come ragazzi di strada insegnava a loro anche un'educazione religiosa ma anche insegnava dei lavori pratici per la sussistenza e anche nel divertimento andò a vedere questo edificio e dice sì come edificio potrebbe andare ma io ho bisogno di un terreno più grande per fare l'oratorio io ho centinaia di giovani che giocano al pallone che corrono che fanno qui fanno là qui edifici insomma non c'è questa possibilità quindi mancando questa possibilità il nostro amico Antonele aveva qualche difficoltà però era un personaggio che non si arrendeva facilmente ed essendo lui anche consigliere comunale fece pressione sul comune affinché comprasse lui questo edificio e magari poi intitolarlo non so un museo del risorgimento qualcosa del genere in onore anche a Vittorio Emanuele II e con questa finalità che tirò fuori il comune accettò e comperò lui questo edificio che già allora arrivava a oltre quasi a 70 metri così appena il comune compra ecco che allora il nostro amico dice qui è la volta che posso andare su e va su va su va su arriva udite udite a 167 metri virgola 50 centimetri inoltre in punta colloca ancora una scultura di un angelo alto 3 o 4 metri che pesava 400 chili quindi una cosa veramente incredibile e questa purtroppo poi lui morirà nel 1888 senza aver visto il termine di questo lavoro fu un lavoro lungo è travagliato accidentato è criticato per alcuni versi lo dato per altri fu poi il figlio dopo qualche anno a finire il lavoro il lavoro finito ospitò il museo del risorgimento quindi fu una cosa anche molto ben interessante e accettata e poi ultimamente tutt'oggi viene ospita il museo nazionale del cinema italiano tutto questo dimostra la grandezza di quest'uomo che non si risparmiò né il tempo né le critiche né l'ardire di fare delle cose nuove e oggi lascia questa mole antonelliana come simbolo di Torino come a Parigi c'è la tour de ferre che simboleggia quella città qui è vero abbiamo Antonelli e noi questa sera abbiamo voluto ricordare questo genio della matematica dell'architettura e dopo questo lungo parlare cosa volevo che vi dica au revoir è vero chiaro Grazie.